Fabrizio Centracchio, Fabrizio Litigante, Domenico Giovannucci, Vincenzo Valentini. Domani i quattro lauretani che seguiranno la Corsa della Madonna in Piazza Garibaldi avranno gli occhi puntati, come del resto l'intera Sacra Rappresentazione che quest'anno unisce Pathos e Trasporto Interiore alla Sicurezza, con una serie di novità che rientrano nel piano di emergenza Varatora Comune. Saranno otto i varchi dislocati nell'ingresso di Piazza Garibaldi, tre presso Largo Mercatello, uno in via Dorrucci, uno in via Santa Margherita, uno nella zona sottostante la scalinata di Santa Chiara, uno all'ingresso del parcheggio di Santa Chiara, uno presso la gradinata sotto l'acquedotto medievale. 15 minuti prima della Corsa, momento clou della manifestazione, Madonna che scappa, che verrà intorno a mezzogiorno, i varchi saranno ridotti a tre, uno in Largo Mercatello, uno all'ingresso del parcheggio di Santa Chiara, uno alla gradinata sotto l'acquedotto, mentre i restanti varchi diventeranno vie di fuga. Gli accessi saranno presidiati da personale formato, forse dell'ordine volontari di associazioni cittadine e carabinieri in pensione. Gli steward avranno il combino di stradare e orientare i flussi d'ingresso, consegnando biglietti numerati e contapersone per un numero massimo di 10.000, in attesa di poter disporre di dispositivi elettronici all'avanguardia da attivare nei futuri eventi. Vigileranno inoltre, in merito all'eventuale introduzione di oggetti pericolosi e potenzialmente atti ad offendere, e di contenitori di vetro e metallici durante l'evento nella piazza, secondo l'ordinanza firmata da sindaco numero 27 del 30 marzo 2018. Parteciperanno alle operazioni i volontari della protezione civile del territorio e dell'ANA. Con ordinanza sindacale sarà disposta ad apertura del COC, in cui vengono attivate le funzioni di volontariato, amministrativa e sanità, con due ambulanze che saranno posizionate in piazza Garibaldi e piazza del Carmine. Prima dell'inizio del rito della Madonna che scappa, sarà celebrata la Santa Messa dal Vescovo Michele Fusco. La diretta dell'emittente televisiva Onda TV sarà trasmessa sul canale 18 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la provincia dell'Aquila, sul canale 171 del Digitale Terrestre, visibile sul territorio nazionale, sul canale 890 di Sky, visibile in tutta Europa, sulla nostra pagina Facebook e sulla piattaforma di YouTube, oltre a servizio streaming sul sito internet www.ondatv.tv, sezione diretta web. Il collegamento comincerà alle ore 11.